Siamo riusciti ieri con un verbale di riunione a mettere nero su bianco 150-160 persone che dovrebbero essere stabilizzate nei prossimi mesi. Si è concluso con un programma condiviso di riassunzioni, l'incontro che si è svolto ieri a Siena tra sindacati e vertici di Sei Toscana, azienda che gestisce il servizio dei rifiuti nei territori di Siena, Rezzo, Grosseto ed alcuni comuni del Livornese. Il braccio di ferro tra aziende e sindacati era iniziato quest'estate dopo che il gestore aveva mandato a casa circa 250 dipendenti interinali. La stabilizzazione per quanto riguarda i primi 45 della graduatoria avverrà il primo di ottobre e oltre questa prima tranche di lavoratori ci sarà poi un secondo gruppo di una trentina di lavoratori che dovrebbe entrare a tempo determinato già dal mese di ottobre e da gennaio arrivare poi a una stabilizzazione. Si ragiona anche di altri 25 lavoratori per i quali ancora le tempistiche e le modalità non sono state dichiarate però complessivamente si parla comunque di 100 lavoratori che dovranno spero entro gennaio essere stabilizzati. Si parla comunque anche di altri 60 dipendenti dovrebbero essere comunque assunti intanto con un contratto a tempo determinato e poi prevedere anche per loro una stabilizzazione successiva. Sicuramente si farà riferimento a una graduatoria che ha come unico criterio quello dell'anzianità quindi quello delle giornate effettivamente prestate attraverso le agenzie di somministrazione. Noi vigileremo affinché il verbale si trasformi in una contrattazione vera e propria quindi in un accordo con le organizzazioni sindacali e vigileremo affinché i numeri vengano rispettati con contratti corretti nei confronti dei lavoratori. Questo per rispetto ai lavoratori ma per rispetto anche alla stessa utenza che ha bisogno e necessità che vengano utilizzate queste persone che sono già formate e persone anche secondo noi anche in più perché il servizio richiede una quantità di persone che noi già riteniamo in questa maniera insufficiente. Per cui abbiamo chiesto a Settoscana di darci i numeri effettivi sul fabbisogno, quello che è necessità e abbiamo chiesto soprattutto un impegno ai sindaci affinché anche loro si impegnino per chiedere un servizio che garantisca e che sia garantito per i cittadini.